Una donna di 73 anni di Castelmauro, ricoverata in terapia intensiva del Cardarelli, è la 483 vittima del Covid dall'inizio della pandemia in Molise. La morsa del virus tuttavia sembra lentamente allentarsi e a tornare sotto la soglia dell'allarme sono gli ospedali. Del tutto senza pazienti, il Santimotio di Termoli, i gemelli di Campobasso e il Neuromed di Pozzilli sono scesi sotto le 30 unità invece quelli dell'ospedale Cardarelli, posti occupati in terapia intensiva sono attualmente quattro, mentre i ricoverati nel reparto degli infettivi sono 25. Non siamo ancora ai livelli precedenti alla seconda ondata, ma è evidente che la situazione migliora progressivamente, sia perché le misure di contenimento stanno dando i loro frutti, sia perché la campagna dei vaccini procede, se non a tappeto, con un buon ritmo. Gli attualmente positivi in Molise sono 475, 18 dei quali sono i nuovi casi emersi dall'ultimo bollettino ASREM su 659 tamponi processati. L'indice di positività dunque scende al 2,7%. Da giorni poi il numero dei guariti supera quello dei nuovi casi, 24 che hanno superato la malattia. In Molise sono 12.474 quelli che sono usciti dal tunnel del coronavirus. Quasi tutte le regioni hanno valori e indici da zona gialla, le riaperture potrebbero provocare qualche scossone verso l'alto, sostiene più di qualche esperto. Tutto sta a tenere alta la soglia dell'attenzione e a rispettare per quanto più possibile le regole per non buttare via e a rendere vani gli sforzi di quasi 15 mesi passati tra lockdown, coprifuochi e fasce colorate.